Subito fuori ai calci di rigore il Chieti nel recupero del preliminare di Coppa Italia con la San Benedettese dopo l'1-1 nei tempi regolamentari. E' un Chieti ampiamente rivoluzionato, quello che petti nel terreno di gioco dell'Angelini rispetto alla trasferta di Vasso Girardi Lucarelli, conferma solo Manfredo Pietrantonio che opera largo a sinistra e Viscovic con la fascia da capitano al braccio il quale si incarica del calcio di punizione che si infrange contro la barriera. Al suo fianco a centrocampo agisce Mele che qui trova la risposta di Francesco Bruno San Benedettese imbottita di under addirittura 8 in campo dall'inizio. Il più esperto è l'ex attaccante della Lazio Mendicino che qui serve per Gianluca Cumm il quale spreca così una chance clamorosa e poi si infortuna, sarà costretto a rientrare Claudicante negli spogliatoi rimpiazzato da Peroni che si rende a sua volta subito protagonista dalle parti di Matteo Forti al primo gettone da titolare in stagione Va Giù in area di rigore ma non ci sono gli estremi per il penalty secondo l'arbitro senese Cevenini. Protesta il tecnico dei rosso-blu Massimo Donati nel Chieti, rientra dall'infortunio Dondoni mentre nel reparto avanzato c'è Sapone che trova spazio al fianco di Baldè che con la sua velocità si incunia ma non inquadra la porta difesa da Bruno ma dopo un avvio positivo per il Chieti e la San Benedettese a prendere fiducia e trovare il gol del vantaggio con Mendicino che sbuca sul piazzato tra Consorte e Dondoni beffato Matteo Forti 1-0 della San Benedettese all'intervallo ma parità ristabilita nel secondo tempo perché Alio e Baldè penetra in aria e con astuzia si conquista un rigore sull'intervento di Lorenzoni non c'è lo specialista Mariani e neanche a Cammadu quindi si presenta per la battuta Sapone che realizza il gol che vale il pareggio 1-1 grazie alla marcatura del giovane attaccante del Chieti ma San Benedettese un passo dal 2-1 immediato con la traversa colpita da Travaglini e la risposta di Forti sull'Isin girata meglio la San Benedettese nel secondo tempo sempre lì si segna ma gioco fermo perché il direttore di gara aveva già fischiato una punizione per la squadra marchigiana e sul piazzato lo stesso lì si trova la risposta attenta di Forti insiste la San Benedettese vuole la vittoria la squadra di Donati che prima con Travaglini e poi con Lorenzoni tutto solo davanti a Forti cerca il nuovo vantaggio nel finale di gara e Chieti che prova ad evitare la lotteria dei rigori senza successo la traversa di Sapone, la parata di Francesco Bruno su Viscovic e il gol decisivo di Lisi dal dischetto condannano il Chieti che ora è già proiettato sul prossimo turno di campionato sempre allo stadio Angelini contro il Castelfidardo Mister Lucarelli un commento a questa eliminazione della Coppa Italia quale indicazioni comunque al di là della sconfitta ai rigori ha avuto? Sì vabbè diciamo che c'è stato un pareggio poi nei rigori è andata come avete visto insomma però l'obiettivo era questo far giocare tanti ragazzi come ha fatto anche la San Benedettese dare minutaggio a chi ha giocato meno vedere alcune cose che possono essere utili per il campionato avrei preferito passare almeno un turno non ci sarebbe stato niente di male poteva essere utile però va bene anche così ho avuto tante indicazioni la partita è stata equilibrata Niccolò siamo tutti contenti all'interno del gruppo squadra perché lui sono due mesi che lavorava a parte è rientrato da dieci giorni squadra oggi ha giocato 45 minuti era veramente stanco alla fine però ha fatto vedere delle buonissime cose che ci possono far ben sperare anche per un futuro perché comunque i giocatori servono un campionato molto lungo ecco da questo punto di vista la Coppa Italia che non ci sia più è un bene però è chiaro che anche gli altri ragazzi oggi hanno fatto hanno rotto il ghiaccio Susi, D'Innocenzo, Samuele Cavaliere e altri quindi la crescita si vede secondo me è molto molto positiva la crescita dei ragazzi anche lo stesso Sapone e Baldè finalmente hanno fatto una partita intera è chiaro che non era semplice per loro perché loro i due difensori comunque della Sametese erano bravi ed io sono soddisfatto anche della partita di Viscovic e di Miele sono contento soprattutto per l'atteggiamento che ha avuto la squadra e questo atteggiamento lo voglio vedere sempre e l'ho visto a tratti nelle prime partite di campionato e questo ha fatto sì che non abbiamo portato a casa troppi punti anzi e quindi sono molto contento dei ragazzi per come si sono espressi adesso ci prepariamo per domenica che sarà altrettanto importante è una partita in cui mi hanno sbagliato tanti gol potevamo farne 4, 5, 6, tante occasioni e basta del rigore che abbiamo subito meglio non parlare perché no